Musica E' cominciato dalla Valle d'Aosta del suo legame affettivo con le montagne di Courmayeur l'incontro con il direttore della stampa Mario Calabresi, ospite che ha chiuso la tredicesima edizione di Incontri di Courmayeur, la rassegna curata da Fondazione Courmayeur e da sempre occasione di conoscenza e dibattito sulle problematiche sociali, politiche ed economiche più attuali. In un Jardin de l'Ange colmo di pubblico il giornalista, capo della stampa Terzo Giornale in Italia, ha parlato delle cime valdostane e di come queste lo abbiano aiutato nei momenti difficili della sua vita, ritrovando in esse, e in particolare sulle Guillain Noir, sulla cattina del Monte Bianco, anche il padre Luigi Calabresi, commissario assassinato nel 1972, quando Mario aveva due anni. Su Courmayeur Calabresi ha scritto pagine bellissime e con la cittadina ai piedi del Monte Bianco continua ad avere un rapporto privilegiato. Io qui ho un legame particolare con la Valle d'Aosta, perché ci sono sempre venuto fino a quando ero bambino e mio nonno mi ha insegnato a venire e all'idea di riflettere in montagna. Per cui è una... diciamo così, che la montagna ha il pregio del fatto che ci sono gli spazi e c'è il silenzio, due cose ormai nella nostra città rarissime. E dalla montagna Calabresi ha parlato del quadro politico ed economico italiano, in un raffronto con quanto avviene in Europa e nel mondo. L'amara considerazione è che la politica stia attraversando uno dei periodi più scadenti e bassi, caratterizzato da un linguaggio basso, dalla mancanza di strategie e di temi reali su cui confrontarsi. La politica si parla addosso, ha detto, non tratta temi di sviluppo per il Paese o temi di interesse e continua ad avere una pulsione alla distruzione dell'avversario, che va al di là di ogni cosa. Io trovo che ci sia nella società e nelle persone molta più voglia di reagire e di progettare il futuro di quanto invece ci sia nel mondo politico, nelle istituzioni. E trovo che questo rimprovinano le persone alla politica oggi, quello di non preoccuparsi di che Paese costruire, di che cosa volere, di non reagire abbastanza alla crisi, ma di arrendersi, di perdersi in lotte intestine, in risse continue. Questi diventano tutti i motivi che portano ad essere negativi sul sistema Italia, che rimane un Paese che gioca in difesa e che cerca di accontentarsi con nessun risultato. Immediata dunque la similitudine con la nazionale italiana e mondiali. E' questa per calabresi la mentalità da cambiare, e i grandi temi su cui puntare rimangono l'università, la ricerca, la formazione e l'innovazione. Campi dove in Italia, in realtà, al contrario di quanto avvenuto negli altri Paesi europei, sono stati fatti forti tagli per un'incapacità di ragionare a lungo termine. Tuttavia, nella società ci sono persone che si danno da fare, che non si lasciano prendere dallo sconforto, che non delegano il proprio futuro a scelte politiche sempre più incerte. L'appuntamento, che ha chiuso gli incontri di Courmayeur, si inserisce nel quadro delle iniziative che da vent'anni Fondazione Courmayeur ha portato ai piedi del Monte Bianco, dove personaggi noti amano passare le proprie vacanze. La Valle d'Aosta diventa allora luogo privilegiato di discussioni di grandi temi su tutti i fronti e le voci degli ospiti internazionali fanno di questi incontri una vetrina d'eccezione con diversi ritorni. Credo che sia importante perché vengono a testimoniare qui a Courmayeur personaggi di rilievo internazionale che hanno scelto la Valle d'Aosta e la specie Courmayeur per le loro vacanze. È importante perché si integra l'offerta turistica con un'offerta di tipo culturale che come si vede dal numeroso pubblico è sempre molto gradita. Inoltre c'è una ricaduta immediata sul territorio. Quest'anno la Fondazione compie vent'anni e in vent'anni ha realizzato oltre duecento eventi con circa due mila duecento relatori e ventimila congressisti tutta gente che è venuta in valle per questi motivi. E poi il ritorno stampa che avviene sempre che anche questo non è da trascurare.